Ciao, sono Luca Manelli. In questo breve video voglio farti vedere come puoi andare a personalizzare le scorciatoie da tastiera. Ho già affrontato questo argomento in altri video dove ti spiegavo come gestire l'ambiente di lavoro e personalizzarlo o come andare a stampare tutti i comandi da tastiera che sono attivi nel tuo profilo di lavoro di Archicad. In questo video ti spiego invece come puoi personalizzare un comando da tastiera. La prima cosa che devi fare è andare nel menu opzioni alla voce ambiente di lavoro e andare a richiamare la voce scorciatoie da tastiera. Archicad aprirà questa schermata dove nella parte di destra puoi vedere che hai la possibilità di andare a visualizzare tutti i comandi sulla base della struttura del menu corrente. All'interno di questo elenco abbiamo il titolo della cartella che contiene i comandi che è identico a quello dei menu e quando vai aprire la cartella puoi vedere tutti i comandi contenuti all'interno del menu. Puoi anche andare a scegliere un altro sistema di visualizzazione. Puoi vedere tutti i comandi in base al tema oppure tutti i comandi in ordine alfabetico. Scegli tu quale è meglio per te per andare a definire le nuove scorciatoie da tastiera che vuoi utilizzare. Se vado ad esempio a selezionare un comando ad esempio il comando apri, il comando apri puoi vedere che ha già una scorciatoia da tastiera associata. Lo puoi vedere all'interno di questo box. Se invece vado a definire un nuovo comando per cui vado ad aprire nel menu documento alla voce lucidi l'impostazione dei lucidi per cui vado a creare un comando da tastiera che mi permette di aprire la finestra che mi permette di gestire i lucidi, puoi vedere che questo comando non ha nessun tipo di scorciatoia da tastiera associato. Allora per poterlo associare devo andare a fare clic in questo box e andare a digitare la scorciatoia che mi interessa. Se ad esempio vado a digitare una scorciatoia che so già che è assegnata ad esempio un command q, command q mi dice che attualmente è assegnato al comando esci per cui il comando per uscire da archicad per cui archicad già ti segnala se quella scorciatoia è utilizzata. Se invece vado a digitare solamente il tasto l puoi vedere che mi dà la possibilità di andarla ad assegnare. Volendo posso non solamente utilizzare il tasto l ma utilizzare ad esempio shift l per cui vado a digitare prima shift e poi l in maniera tale che venga riportato il comando all'interno del box. Se questo comando mi va bene non devo far altro che cliccare su assegna in maniera tale che la scorciatoia venga assegnata a questo comando. Ora devo però andare a lavorare all'interno degli schemi scorciatoia. Gli schemi scorciatoia ti permettono di andare a memorizzare uno schema da assegnare poi a un profilo di lavoro. In questo caso avendo fatto una modifica archicad mi dice che il mio schema scorciatoia è personale per cui ho la possibilità di procedere a memorizzare un nuovo schema. Basterà cliccare su memorizza come e inserire il nome dello schema oppure andare a selezionare uno schema già memorizzato e andare a fare clic su ridefinisci per ridefinire lo schema sulla base delle variazioni che abbiamo effettuato. Io scelgo questa seconda opzione, clicco su ridefinisci e vado a ridefinire lo schema. Una volta fatta quest'operazione confermo con ok e adesso vediamo se il comando che abbiamo assegnato funziona. Vado a digitare sulla tastiera shift l e automaticamente Archicad puoi vedere che mi apre la finestra impostazioni lucido.